Ho cucinato nelle cucine dei migliori ristoranti al mondo e le bellissime case delle star di Hollywood ma questa ragazzi resta la cucina più bella guardate che panorama Sì certo è una cucina un po' piccola però non manca proprio niente Vabbè oggi per quei disgraziati preparerò una minestra contadina con la base di riso, ortaggi della fattoria e infine un bel tocco di formaggio cremoso Grazie a tutti